buongiorno ragazzi benvenuti a un crimine al giorno del 5 aprile e mi raccomando mettete un like e unitevi al canale crack apart per tutte le nuove nuovissime rubriche e video che pian piano stiamo producendo e che stanno allargando il canale ma oggi è una giornata particolare perché almeno insomma penso che per tutti gli amanti della musica in generale per tutti gli amanti dell'arte una giornata estremamente triste e non potevo che dedicare un crimine al giorno all'evento decisamente più importante per il 5 aprile di tutto questo secolo del secolo in realtà del secolo passato per quanto mi riguarda ma insomma curt la giornata è dedicata a io l'ho inserito all'interno dei crimini perché il 5 aprile è la giornata in cui kirk bain leader dei nirvana si è tolto la vita nella sua casa di seattle l'ho inserita all'interno dei crimini non tanto per dare adito insomma abbondante a quelle che sono tutte le voci relative alla possibilità che non si tratti di un suicidio eccetera ma perlomeno per presentarle è molto probabile che data la personalità e data le condizioni psicologiche in cui si trovava attorno all'inizio di quell'aprile aveva appena finito le ultime registrazioni con il nirvana nel gennaio con crisi aveva deciso di entrare in un progetto di riabilitazione dalle sostanze stupefacenti e dall'alcol ma aveva già tentato il suicidio anche lì il suicidio è stato diciamo sospetto con un overdose di farmaci e alcol proprio in italia era stato in qualche maniera legato anche quello a courtney love la moglie considerando il fatto che ne aveva detto c'è stato un biglietto di addio ma quel biglietto non è mai stato ritrovato comunque il 5 aprile 1994 è il giorno purtroppo che ci interessa per la scomparsa di Kurt Cobain andiamo a vedere la scheda in realtà Kurt è stato ritrovato cinque giorni dopo il 10 aprile del 1994 ed è stato ritrovato nella sua casa al numero 171 della lake washington boulevard nella zona est di seattle adiacenza insomma del lago washington in realtà l'orario del suicidio di quello che è accaduto è imprecisato si tratta della notte del 5 aprile che è stata ricostruita tra l'altro con difficoltà a partire da un ritorno a Seattle pensate in cui Kurt Cobain aveva incontrato sull'aereo il bassista dei guns and roses ovvero duff mckagan che l'aveva invitato a trascorrere la notte o trascorrere addirittura un paio di giorni nella propria casa perché l'aveva visto estremamente frustrato estremamente depresso questo a smentire almeno parzialmente quelle che erano le voci messe in giro principalmente dalla stampa relative a questa evidente inimicizia ecco fra i nirvana e i guns and roses tra l'altro appartenenti prodotti dalla stessa casa discografica la get fan records la vittima di suicidio o di quello che è stato insomma è Kurt donald cobain leader dei nirvana anni 27 la ferita devastante una ferita d'arma da fuoco esattamente una ferita di fucile da caccia e però io come arma del delitto ho messo anche quelle che sono le risultanze della autopsia fatta sul cadavere di carco ben che a distanza di cinque giorni alla sua scoperta da parte di un fattorino aveva le risultanze di ben 225 mg di eroina di valium nelle vene che corrispondono grossolanamente a sei volte tanto la dose letale o in grado di far cadere una persona sostanzialmente in overdose quasi immediata questo è uno dei principali dubbi portati all'idea che lui possa effettivamente avere sia scritto la lettera che potrebbe effettivamente essere stata scritta prima la famosa lettera di addio sia essersi sparato quindi con efficienza dopo essersi iniettato questa quantità di eroine di valium dopo a quanto pare una serie di peregrinazione nei boschi che sono state però semplicemente ricostruite dalla fantasia non esistono ovviamente testimoni oculari al momento del fatto come sospetti per debito rispetto alle indagini che sono state fatte con un movente che viene considerato un movente di tipo ereditario economico considerando il fatto che Kurt aveva estromesso Kurt Nailov dal suo possibile testamento lasciando praticamente tutte le sue tutti i suoi possedimenti alla figlia Frances Bean Cobain ovviamente nei sospetti ci ho messo Kurt Nailov moglie di Cobain perché così è stato diciamo introdotto da una serie di ricerche che sono state fatte a causa del fatto che insomma c'erano dei fatti tipo la quantità di eroina e di valium nelle vene la leggera distanza del fucile dal corpo che pareva parzialmente incompatibile con il concetto di suicidio e questa lettera di addio che pareva essere stata stilata sostanzialmente in due grafie leggermente differenti una delle quali sembrerebbe non corrispondere pienamente a Kurt Cobain cioè tutta la prima parte tranne eventualmente i saluti vengono inseriti nei sospetti anche Eldon Hawk cantante dei Mentors che circa una decina di giorni dopo il suicidio di Kurt Cobain era andato alla polizia dichiarando di essere lui la persona che aveva ucciso Kurt Cobain andando poi a ripulire il fucile nell'impugnatura e sul grilletto e andando a ripulire anche la penna che era stata utilizzata per scrivere la lettera non si è mai potuti effettivamente andare in fondo alla faccenda perché Eldon Hawk in maniera estremamente utile rispetto a questa chiusura delle indagini è morto a sua volta il 19 aprile quindi semplicemente nove giorni dopo la scoperta del cadavere di Kurt Cobain ucciso dal da un suo fantomatico amico e non si sa se Rodi dei Mentors ma entrambi amici di Courtney Love Alden Brent che è stato poi inquisito e condannato per l'assassinio dello stesso Hawk avendo confessato di averlo spinto sotto un treno e questa è stata la fine di Eldon Hawk dunque il movente che io ho indicato è ereditario ed economico però ragazzi bisogna effettivamente considerare che il crimine è stato archiviato come suicidio per insufficienza di prove accessorie nonostante il fatto che il nonno di Kurt Cobain abbia cercato per anni di far riaprire le indagini di tenerle aperte in relazione a tutti quei piccoli dettagli che riguardo al suicidio di Kurt Cobain non quadrano e nonostante il fatto che appunto questi insomma questi dettagli relativi al fucile e relativi alla penna siano decisamente decisamente particolari rimane il fatto che ci sono una serie di persone sono state una serie di persone che pur avendo diciamo espresso il proprio cordoglio ed espresso il proprio dispiacere eccezionale nei confronti della dipartita di quello che è stato sicuramente uno degli artisti più importanti della scena eh rock alternativo viene definita grunge di tutta la storia praticamente del grunge ci sono stati un bel po' di artisti che hanno semplicemente espresso il proprio cordoglio ma hanno detto poteva essere assolutamente nelle possibilità di Kurt le prove che vengono espresse contro questo evento sembrano essere in qualche maniera deficitaria e ci sono state anche delle persone eh per esempio come il cantante dei melvins o in generale i melvin stessi e anche altri musicisti che hanno decisamente eh espresso una posizione contraria al culto del martire come dire e anzi hanno sfruttato questa occasione eh per esprimere la eh necessità di prendere eh consapevolezza eh coscienza relativamente a quello che può essere il male e le condizioni prodotte da una serissima eh livello psicopatologico unito purtroppo a un utilizzo eh importantissimo se non grave ecco di droghe pesanti come l'eroina che sono sicuramente delle cause scatturenti di una situazione del genere ci sono eh ci sono dubbi ovviamente nel suicidio di Hick Carcobain come ci sono dubbi nel suicidio di alcuni altri musicisti insomma della scena grunge che adesso io non voglio trattare ma che tratteremo probabilmente in seguito ma sicuramente bisogna ammettere così come bisogna specificare quelli che sono diciamo i dettagli che fanno venire dei dubbi bisogna sicuramente specificare purtroppo che Carcobain era una persona sofferente che avrebbe tranquillamente potuto e probabilmente ha effettivamente portato a termine eh il proprio suicidio largamente eh come dire prematuramente rispetto a una eh carriera che è stata folgorante una carriera che avrebbe potuto darci dare a tutti noi una grandissima bellezza musicale artistica ancora per molto tempo quindi 5 aprile Kurt questo è il crimine fra virgolette di oggi alla botteguccia dei sigilli ci vediamo domani come al solito per un'altra pillola di crimine sempre qua alla botteguccia cracker park a grazie a tutti a